La conversione ecologica, la rigenerazione urbana, la politica 2.0, il turismo sostenibile, il web come occasione di crescita e aggregazione e il Mediterraneo, questi alcuni dei temi che saranno affrontati dal 24 al 26 giugno a Favara, in occasione della prima edizione del Meeting Fest Francescano del Mediterraneo, connessi per una rigenerazione e questione sociale sostenibile fraterna. L'appuntamento è stato voluto dal Consiglio regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, insieme alla gioventù francescana e alle famiglie dei frati e delle suore francescane di Sicilia, con il patrocinio del Comune di Favara, dell'Assemblea regionale siciliana, dell'assessorato al turismo, sport e spettacolo e del distretto turistico nonché DMO Valle dei Templi, tanti gli ospiti che si susseguiranno nei tre giorni tra dibattiti, confronti e approfondimenti, in presenza di esponenti del mondo della Chiesa, ma anche della politica, studiosi e giornalisti.